Le immagini di un Mikhail Sakashvili emaciato durante un'udienza in tribunale in videoconferenza hanno fatto scattare l'allarme sulle sue condizioni di salute e hanno provocato l'espulsione entro 48 ore dell'ambasciatore georgiano dall'Ucraina. Sakashvili, che è stato presidente della Georgia dal 2004 al 2013 è in sciopero della fame da quasi due anni. Ha acquisito la cittadinanza ucraina mentre vi aveva soggiornato in esilio alla fine del suo secondo mandato. In Georgia è stato processato in contumacia per abuso di potere e condannato a sei anni di carcere. Nel 2021 è stato arrestato dopo essere tornato nel proprio paese per sostenere l'opposizione in vista delle elezioni comunali. I suoi avvocati e l'Ucraina chiedono che venga curato in ospedali occidentali.